Ricordate, beh, dopo tutto sono passate solo un paio di settimane, da quando ho pubblicato un video dal titolo Salari reali, povera Italia. Un video nel quale vi riferivo di uno studio effettuato nel 2020 dall'Ocse, uno studio che riguardava la variazione dei salari reali dal 1990 al 2020. Ebbene, il risultato per il nostro paese era stato più che deludente, direi deprimente. La nostra Italia, infatti, era l'unico paese nel quale, nei trent'anni appunto che vanno dal 1990 al 2020, ha visto i salari reali non salire, anzi scendere, calare per la precisione del 2,9%. Sempre in quel video io avevo detto e allora dobbiamo capire a cosa si deve un fattore così singolare e nefasto per il nostro paese. E la risposta non potrebbe essere più scontata, l'introduzione dell'euro e dell'Unione Europea. Ok, adesso dal 2020 sono passati i quattro anni. Certo, non sono stati proprio i quattro anni, diciamo, più fulgidi del per la nostra economia. Ma magari la nostra situazione è migliorata o forse è peggiorata ma meno delle altre. Insomma, mi è venuta la curiosità di vedere se la situazione per i nostri salari reali è migliorata o risultiamo invece sempre maglia nera. Ricordo ecco che i salari reali significa, quando si parla di salari reali, intendiamo i salari al netto dell'inflazione. E mi affido stavolta ad uno studio effettuato da Unicredit, che è uno studio che riguardava appunto i salari reali nei paesi dell'eurozona, in questo caso. I dati, per la precisione, si riferiscono al quarto trimestre del 2019 e al quarto trimestre del 2023. Insomma, in questi quattro anni in Italia le retribuzioni reali, diciamo per essere precisi, la retribuzione reale per dipendente è diminuita dell'8%, mentre la media dell'eurozona è stata del 3%. Insomma, ancora male. Ma speriamo almeno questa volta ci sia stato qualcuno, qualche paese che abbia fatto peggio di noi, non per altro. E insomma per non subire l'umiliazione di essere sempre ancora nell'ultima posizione, ecco. Ma che? Allora, ancora ultimi, ancora ultimi, ancora i peggiori. In nessun altro paese dell'eurozona i salari reali in questi quattro anni sono diminuiti così tanto come in Italia. Unicredit nel proprio report cerca di abbozzare così le motivazioni di questa, che definirei ennesima debacle. Ebbene, si legge che in Italia la forte contrazione degli stipendi reali deriva soprattutto da rivendicazioni salariali relativamente contenute da un processo scaglionato di rinnovo dei contratti e dall'assenza di un salario minimo. Ebbene, voi sapete come la penso, no? Per quanto riguarda le rivendicazioni salariali relativamente contenute ed un processo scaglionato di rinnovo dei contratti? Ebbene, concordo pienamente. Ma non sarei dello stesso avviso per quanto riguarda l'assenza di un salario minimo, visto che non c'era nemmeno prima. Comunque, come vi ho detto più volte, però in campo macroeconomico ogni evento produce sempre due effetti, uno positivo e l'altro negativo. In questo caso, così, una maggiore riduzione dei salari reali rispetto agli altri paesi dell'Eurozona farà aumentare la nostra competitività, la competitività della nostra economia, insomma. Dall'altro lato, però, impoverendo i cittadini, è chiaro che riduciamo i consumi interni e quindi la nostra economia ne soffrirà. Un altro aspetto positivo riguarda appunto il fatto che la diminuzione dei salari reali contribuisce a ridurre l'inflazione. Ed è proprio per questo motivo che nel nostro Paese la fiammata inflattiva si è ridotta drasticamente. Da diversi trimestri l'inflazione in Italia è significativamente inferiore rispetto alla media europea. Naturalmente il governo si vanta di questo, di essere riuscito a far tornare l'inflazione sotto controllo. Però non vi dice che questo dipende principalmente dal fatto che da noi i salari reali sono scesi più che da altre parti. E questo naturalmente ha depresso la nostra domanda che sta riducendo l'inflazione. C'è chi dice poi che un aumento dei salari non faccia crescere i prezzi nella stessa percentuale. Beh, questo ovviamente è vero perché i salari concorrono solo in parte alla determinazione dei prezzi di beni e servizi. Quindi magari anche accettando un po' di inflazione in più, ecco, a tal proposito spesso vengono citati gli Stati Uniti che in questi quattro anni non hanno visto come in Europa scendere gli stipendi reali del 3%, ma addirittura li ha visti crescere dell'1%. Per questo gli Stati Uniti hanno avuto una maggiore crescita economica in questi quattro anni, anche se però hanno mantenuto un'inflazione un po' più alta rispetto all'Europa e per questo il prossimo 6 giugno la BCE ridurrà i tassi dello 0,25% mentre la Fed li lascerà invariati. Insomma, continuo a ripeterlo, aspetti positivi si scontrano con aspetti negativi. Poi occorre sottolineare come non serva attraversare l'oceano per vedere una situazione diversa dalla nostra. Anche all'interno dell'Eurozona le variazioni del salario reale in questi quattro anni, fra i diversi paesi, sono state, diciamo, estremamente sensibili. Pensate, se, lo ricordo, se da noi i salari in questi ultimi quattro anni sono diminuiti, i salari reali sono diminuiti dell'8%, pensate che in Portogallo sono aumentati del 7%, aumentati, non diminuiti. Quindi in questi quattro anni la differenza dei salari reali fra l'Italia e il Portogallo è risultata del 15%, 8% in riduzione in Italia e 7% di aumento in Portogallo. Francia e Germania, così per affrontarci con paesi più simili al nostro, hanno vissuto una situazione intermedia, hanno visto diminuire, infatti, i loro salari reali, diciamo, nella media europea, ossia del 3-4%. A favore di una migliore, maggiore dinamica degli stipendi in Italia si sono espressi i nostri due membri all'interno del board della BCE. ossia il governatore di Banca Italia Fabio Panetta e Piero Cipollone, che è membro del comitato esecutivo della BCE. Quest'ultimo ha dichiarato Un'eccessiva attenzione all'andamento dei salari a breve termine potrebbe non considerare in pieno che la crescita dei salari può e deve avvenire affinché la ripresa dell'eurozona, attualmente fragile, si consolidi. Insomma, Cipollone non sembra aver paura di una ripresa dell'inflazione e ritiene che far crescere il prodotto interno lordo aumentando anche gli stipendi porti più vantaggi che svantaggi. Tuttavia, sia Panetta che Cipollone non diranno mai che l'Italia continuerà a vedere scendere i propri salari reali finché resterà all'interno di questa gabbia chiamata Unione Europea.